ASMR ASAP Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci qua in una nuova anteprima. Oggi vi faccio super super rilassare, anzi vi svuoterò la mente, vi svuoterò la mente dai pensieri negativi, dai pensieri negativi, pensieri negativi, usando dei visual triggers, visual triggers, e una musca rilassante, siete pronti? 3 Oggi vi faccio super rilassante, vi faccio super rilassante, Tamplice tratta questa sintetica. belle che davant sì 技 es Grazie a tutti.